buonasera you are live bellissima questa cosa buonasera viaggiatori e bentornati nelle nostre improbabili live con il caffè ancora in mano la sigaretta già accesa buonasera aspetta che mi giro le cuffie perché mi scendo dalla parte non capisco più niente fermi va decisamente peggio non so perché intanto arrivo a essere a tutti questa è una live un pochino strana ragazzi questa sera ma come sapete cerco sempre di dirvi tutto e quindi volevo un attimino aggiornarvi su quello che erano le novità quello che stiamo studiando quello che stiamo facendo fra l'altro prima di tutto proprio prima di tutto auguri a beppe beppe è il nostro mitico beppe cricchetto auguri io non vorrei fare una cagata non mi ricordo se li compi oggi li compi domani vabbè prima o poi li compi poi invecchi comunque auguri a beppe perché stiamo preparando sì ma non oggi è appunto vabbè mettite l'intasca che palle o è difficile anche dare comunque detto questo ragazzi l'idea di questa live questa sera era semplicemente condividere con voi i nuovi progetti di nuove idee perché stiamo veramente lavorando tanto su questo concetto diciamo che stiamo effettivamente tirando fuori buoni spunti e buone idee allora prima di tutto vi parlo di una cosa interessantissima anche perché chi ha visto il video di mercoledì mi autobippa da solo che mi dice che sono in diretta che spettacolo ok avete visto il video di mercoledì del mitico camper di sms radio avete visto claudio e vi discorrendo proprio con loro stiamo lavorando agli eventi agli eventi intesi come arduni vi vado a spiegare cosa sta finalmente nascendo allora il problema che avete chi è stato a bologna e chi ha vissuto quel ehm tiramolla tra virgolette con il raduno giù dall'acqua rossa ha intuito che il problema fondamentale erano questa situazione diciamo che esista all'oggi tra green pass normative casini eh e comunque un un semplice evento raduno dove noi oltre a essere amici che ci divertiamo che è stato anche a parma a poco tempo fa lo ha visto come funziona arrivi lì ti siedi ognuno porta qualcosa ci divertiamo tutti lo spirito è questo qua il problema chiaramente che non siamo più due siamo tanti camper buonasera ho visto ciao laura ciao a tutti c'è virus arriva fabio serra fabio mi raccomando ogni tanto chiudi il gas è parzializza perché quando ti scappa aperto proprio quando apre la valvola ex up tanta roba detto questo il problema chiaramente sono i numeri cioè nel senso ogni volta che noi ci troviamo mettiamo insieme 60 60 camper potenzialmente è un po' una problematica con questo diciamo di questo tipo di discorso proprio si è affrontato per fortuna cambia il fuoco della camera sei sfocato il fondale a fuoco come tutte le volte aspetta che me lo mi auto rimetto a fuoco perché tutte le volte mi metto a fuoco di qua perfetto ok nuovo ok ha ridetto questo quindi si è studiata una formula molto interessante soprattutto che a noi principalmente perché il i raduni li facciamo noi scusa un attimo hai acceso la registrazione e fra 20 minuti chiaramente sì no 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 è quello dietro il pulsante della registrazione quello rosso dietro quello rosso dietro ok adesso aspettiamo che scriva tutto dovremmo essere tutti a posto va bene così ok rifacciamo quindi questo mi è arrivata una multina da malalbergo veramente laura poi magari ci sentiamo mi racconti perché c'è se per cosa perché l'unica tratto che tu devi aver fatto se è stato un autovelox è proprio ma parte che è segnalato grandissimo dove ci sono i 70 siete arrivata da lì mi dispiace ma è senza pietà quell'autovelox veramente senza pietà ora tornando a quello che stavamo dicendo cioè inerente al discorso eventi raduni si sta studiando questa formula dove noi partecipanti noi che partecipiamo dovremmo spendere o family van ciao ciao ricchi diciamo dobbiamo spendere tra il poco e niente d'accordo c'è una piccola quota che parliamo di 5 6 euro per darti un'idea a camper per l'intero fine settimana ok dove siamo in cornici molto belle vi dico già che di fatto il primo evento raduno stiamo ancora studiando un attimino le date ma ne parliamo comunque marzo aprile sappiate che ne parliamo marzo aprile dall'anno prossimo perché alloggi è veramente comunque infattibile poi siamo in cornici belle dove dove c'è l'area camper che abbiamo di fianco c'è la partenza con i gommoni per il rafting dall'altra parte ci sono le funivie se vuoi andare a vedere i posti quindi c'è abbiamo diciamo l'area interna se vogliamo parlare fra di noi di alcuni discorsi insomma molto carino quindi questo discorso è molto interessante perché perché di fatto sono noi che frequentiamo raduno praticamente ci costa quasi zero ed è molto interessante siamo seguiti diciamo da questa associazione che ci toglie passatemi il termine le beghe da quello che possono essere numeri non numeri numeri elevati di fatto diventa un evento e sopra gli uccellini ale ci sono assolutamente e se non ci sono li porti tu perché tu sei l'uomo degli uccelli ormai lo sanno tutti quindi questa è una cosa io ti prego una volta te lo scongiuro quando puoi quando è possibile quando fai una live ti prego posso venire anche cinque minuti però io vederti per l'uomo dell'uccello che parla è tanta roba guarda che l'ho detta forte questa va bene ok tornando sempre a noi quindi l'idea semplicemente è riuscire a mettere in piedi una situazione di questo tipo dove a noi costa niente ci divertiamo tanto e soprattutto creare cose belle creare intrattenimento ma mi chiamo francesco sei serio veramente cioè io ti ho chiamato alessandro fino ad è a posto tanto dio tutte le volte mi scordo i nomi va beh senti prendila così è per piacere non 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 ne fate una questione personale allora perché è già tanto che non ti ho chiamato roccia io quando quando non mi ricordo veramente cioè ho capito chi è quella persona ma non mi ricordo chi è io dico sempre roccia quando dico ero c'è perché non ho la minima idea di chi cazzo tu sia però so che ti ho conosciuto ora detto questo e quindi tornando e terminando questo discorso di eventi il il vantaggio è che all'interno di situazioni del genere vogliono dire che ci diciamo ci possiamo divertire molto di più fra di noi e soprattutto perché ho in mente delle cose da fare insieme che voi umani non avete un'idea ma ne parleremo strada facendo anche perché per fortuna ci dividono un pochino di mesi volevo intanto mettermi un attimino al corrente di questa cosa perché giustamente il discorso raduni che io sono il primo i raduni sono bellissimi perché un momento di aggregazione fantastica stanno diventando ragazzi molto impegnativi proprio perché ci sono comunque tante responsabilità inutile inutile che ci giri intorno e tante responsabilità sono impegnative quindi se tu hai un'associazione dietro che sa cosa fare e come farlo ciao robbie grande ciao don tiz buonasera fra l'altro tiz tutto scritto poi 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 ti spiego domandina si vive in una zona residenziale dove per di più di quali di qualcuno l'importante l'estetica come si può vorre comprare un vecchio camper da rimettere a posto anche se lavori nella tua proprietà ma gli occhi guardano anche la foglia fuori dalla siepe ma alessandro io ti rimando al video non siete abbastanza io guarda vivo in una zona dove di fianco a me ci sono vicini e ormai si sono non è che si sono abituati gliel'hanno data su come diciamo a bologna ce lo sanno che qui ci sono solo dei gran rotami però a me sinceramente che gli altri hanno il camper bello io il camper brutto ma è quelle cagate lì e perdonami non ce la faccio cioè il mio pensiero ce l'ha in quel video che ti ho detto io sto tanto bene con il mio camperino da 3500 euro e vi ho fatto i conti di cos'è costato compreso l'impianto a litio compreso tutto e vedete anche dove ci vado in vacanza quindi a me del camper figo non figo non mi interessa intanto te luci dati il camper che io accendo vado e poi ci guardiamo domani però degusti busli ognuno fa quel che vuole ora volevo semplicemente dicendo chiudendo il discorso eventi raduni era se vi faceva piacere questa idea di questa formula cioè ve la riassumo in sostanza la formula sarebbe noi che partecipiamo abbiamo un costo quasi nullo parliamo di veramente 5 6 euro a camper cioè neanche a persona a camper semplicemente abbiamo l'area riservata siamo tranquilli possiamo fare quello che vogliamo abbiamo gente che ci segue anche per quanto riguarda l'intrattenimento tra virgolette cioè andiamo grande marcone grande andiamo a divertirci letteralmente quindi non dobbiamo preoccuparci di queste determinate cose dobbiamo solo preoccupare di divertirci chiaramente non sarà semplice organizzare tutta questa cosa quindi ditemi anche voi cosa ne pensate se vi può piacere come idea di formula di raduno per poterci ritrovare tutti in completa serenità e non avendo pensieri grande marco faccio da me e grande prova prendermi ora passiamo invece anche a ulteriori sviluppi diciamo che stanno uscendo e qui avrei bisogno veramente di un feedback da voi allora il mio problema fondamentale è che mi arrivano una caterva di mail messenger instagram youtube da tutte le parti con richieste mi spieghi quello fai tu il lavoro no io lo sapete non sono un riparatore non io non ho un'officina io ho un laboratorio non lavoro scampo degli altri e tutto quello che ne viene dietro però questa cosa è bisogna ripeterla tipo 10 12 volte al giorno io stavo pensando c'è stavo pensando sta nascendo quella che è questo progetto il progetto è praticamente l'accademia del viaggiatore che cosa vuol dire che nell'arco dei mesi io sto cercando di strutturare dei corsi vi do un esempio vado nel pratico così ve lo spiego meglio sto organizzando il corso di meccanica cosa concerne il corso di meccanica vuol dire che noi ci scriviamo io penso che su per giù non ci stiano più di 20 persone alla volta questo corso di meccanica lo andiamo a fare in officina da beppe fisicamente e parleremo ad esempio se il corso di meccanica 1 chiamiamolo così beppe ci spiegherà per file per segno ad esempio il discorso dei tagliandi cioè come effettuare il tagliando al proprio veicolo senza fare danni d'accordo quindi alzando il mezzo sul ponte spiegando ad esempio le gradazioni degli oli i giunti cosa controllare cosa non controllare la cosa buona è farlo uno in totale sicurezza prima di tutto due con persone esperte del settore che sanno darti spiegazioni cifra di questo corso veramente blanda perché da quello che sto cercando io ragazzi vi sto dando cifre perché è tutto qui in questo momento è tutto in testa e semplicemente come sempre faccio ne parlo con voi vuol dire creare un corso che costa indicativamente una cinquantina di euro di un'intera giornata si parte alle 9 della mattina si finisce alle 6 di sera la prima parte c'è quindi la mattinata è tutta teorica la seconda parte è pratica vuol dire che se parliamo del corso ad esempio del tagliando vuol dire che voi venite con il mezzo e fate il tagliando al veicolo insieme agli altri partecipanti insieme a beppe che ci spiega ci dice cosa sì cosa no grande stefanone mica stefano ci siamo visti al primo radunone anche lui fra l'altro robbie è un tuo collega un camionista anche lui se non mi ricordo male è veramente un bel camper grande stefano e vengo a fare il corso di pazienza la fai ma sai che ci vuole anche il corso di di italiano ultimamente perché ci sono matteo fra l'altro matteo sarebbe bello con te fare il corso inerente ai termo alla termotecnica quindi il discorso impianti idraulici impianti gas sappiatelo prima assolutamente non se ne parla non ho mai lo sapete non ho mai fatto video inerenti a come si monta come si pulisce quelle robe di gas per me è una cosa proprio completamente però l'idea è sto creando questa struttura dove il vantaggio è vogliamo capire di più questo tipo di argomento ok non è fattibile che io sto al telefono 40 ore tutti i giorni a spiegarlo uno per uno facciamo un corso dedicato prendiamo un professionista lo paghiamo perché chiaramente non è che al sabato lì viene lì a gratis cioè beppe vuol dire che ci apre l'officina ci fa entrare in venti dentro possiamo prendere il caffè e facciamo il corso da lui quindi siamo in officina parliamo dei tagliandi parliamo non so degli ammortizzatori di quello che concerne quel tipo di corso così come se andiamo a parlare ad esempio del mobilio della falegnameria andiamo a rivolgerci a un falegname a qualcuno che lavora la parte del legno così come un termotecnico un idraulico un elettricista e ci aiutano a spiegare meglio le cose che potrebbero capire ditemi se questa cosa secondo voi è interessante chiaramente non ci dimentichiamo il corso di napoletano io guarda sono sicuro nino che secondo me dovrebbe diventare la seconda lingua internazionale perché tu dovunque vai nel mondo uno e guaglio tu lo senti e tu lo sai che non sto dicendo una cavolata bella idea quella dei corsi grazie c'è l'idea era se noi abbiamo tipi di argomenti cioè parliamone meglio magari anche nel gruppo tra ricollette che il gruppo per fortuna è veramente molto attiva se ci sono tipi di argomenti ad esempio mi piacerebbe anche molto coinvolgere molti di voi adesso abbiamo qua stasera c'era prima lisa isa e giampi per darvi un'idea giampi è un radio amatore di notevole anni io io stesso che anch'io sono radio amatore non ho le sue conoscenze quindi potrebbe essere interessante ad esempio anche dedicare una giornata alle strumentazioni di bordo le strumentazioni di bordo che cosa vogliono dire ad esempio i navigatori i gps i cb veicolari se qualcuno vuole montare o alla patente il v e l'u hf che tipo di antenna montare dove montarla come montarla cosa vuol dire rosmetrare un'antenna c'è capite che parliamo di tutte queste parti particolari che ma grande enrico ciao di tutte queste cose particolari e ci possiamo abbiamo il vantaggio che ci possiamo scegliere anche noi l'argomento making grazie grazie io fra l'altro un po che non ti sentivo io spero il corso di video making potrebbe essere che ci sia anche qualcuno interessato io non sono la persona idonea già fanno cagare i video che faccio io figurati se vado a spiegarti come si fanno però potrei tu sei un professionista del settore assolutamente io se vediamo che c'è magari una richiesta c'è gente magari che dice come si fa ora non è il mio canale non è proprio idoneo per questo tipo di situazione lo teniamo in ottima in ottima considerazione per darti un'idea quindi tutto quello che sto cercando di creare in in questi mesi perché questa idea dei corsi partirà a gennaio quindi in questi mesi stiamo cercando di creare perché anche la penny che la vedete lì che scrive poveretta lì che si ammazza di me la mattina e la sera se riusciamo a creare una piccola rete di persone che hanno voglia di dedicare del tempo a spiegarci le cose che non interessano il corso di barbecue c'è sì e ho le persone idonee a questo sappi ricardo che ho le persone idonee perché c'ho quella fare che chiami andrea bellomo che lui qualunque lui se ti vede ti griglia ok ciao paolo in pratica sono una serie di corsi o uno si scrive l'argomento che si della fantasi l'idea sarebbe se noi creiamo una piattaforma di corsi no tu li vedi ci può essere quello che ti interessa quello che non ti interessa e battezzi quello che ti piace ad esempio se non te ne frega niente del corso di meccanica perché magari sei già a posto ma ti interessa quello in renta l'impianto elettrico l'impianto idraulico vieni solo a fare quello cioè non è che te li devi fare tutti capito lì andiamo a selezionare magari argomenti specifici e cose particolari e andiamo poi a farlo corso di barbecue ci sto fabio ti do ragione quindi io posso fare un corso di confessioni ma sai che secondo me ad esempio tutti avresti il vantaggio che potresti fare un corso sul come quando ce l'hai qui in canna col grilletto tirato riesci a non buttarla fuori cioè fondamentalmente a riuscire a tirare il bestemmione dentro ma non fuori quello potrebbe essere una cosa interessante salverebbe la vita parecchie ci saranno informazioni su start alternatori piccoli motori al mio campo ottimo vedi vincenzo il vantaggio di tutto questo c'è di tutta questa community è che nel bene o nel male abbiamo tantissimi professionisti fra l'altro vi aggiorno anche che poi era l'argomento che ve ne avrei parlato solo ma dopo ma ci salto un attimo io sto devo ancora prendere il caffè dall'inizio della live giovedì prossimo abbiamo in live con noi gabriele di litio store perché ci racconta molto meglio sui supercondensatori finalmente sono arrivati diciamo per me ancora tecnologia aliena letteralmente cioè però sono arrivati ad essere effettivamente in vendita con ottimi prodotti ed è una roba spaziale cioè parliamo di prestazioni che il litio neanche ci si avvicina costi anche che il litio neanche ci si avvicina però sapete che io sono sempre per l'informazione quindi abbiamo il vantaggio di avere gabriele giovedì prossimo che ci spiegherà molto meglio la nuova tecnologia dei supercondensatori cos'è cosa si potrà fare tutto il resto fra l'altro la vedo molto idonea anche per le batterie di avviamento ma ne parleremo poi giovedì prossimo questi corsi che presto avranno paolo come dicevo prima adesso è tutto qui ancora in testa indicativamente da quello che mi è dato capire parliamo di corsi comunque non costosi ci vogliono dire corsi di una giornata si parte la mattina come dicevo prima dalle 9 alle 18 di sera indicativamente quindi questo arco temporale parliamo di una cinquantina di euro a testa di partecipazione perché comprende comunque ricordatevi sempre l'assicurazione perché voi venite dentro a un'altra officina se vi fate male ok quindi c'è ci sono piccoli costi che sono costi proprio vivi questo diciamo è l'idea che ho se non altro poi vediamo di sviluppare nell'arco del tempo magari anche ma ti vedo in forma ti vedo in forma mica tanto io sono cotto marcio anche perché guarda ho la stufa accesa che fra un po' vado a mettere delle legne e sto praticamente facendo la live con l'odore l'insufflazione fantastica del solvente dello smalto che ho finito di dipingere il cassone un po' ubriaco però va tutto bene a me la condensa mi fa porre infiltrazione sicura purtroppo quindi vieni con il proprio mezzo e ti fai il tagliando così impari fabio questa è proprio un'idea bravissimo che l'hai tirata fuori come dicevo prima nella mia testa poi bisogna vedere se è fattibile a me sarebbe piaciuto ad esempio se noi parliamo del andiamo a fare il corso inerente a come si effettua il tagliando senza fare danni lo facciamo in officina da beppe il vantaggio quale sarebbe che noi da dalle nove della mattina fino a chiamiamolo mezzogiorno è tutta teoria quindi andiamo a si va a spiegare perché l'olio ha una gradazione come si sceglie la gradazione il filtro dell'olio le cose da stare attenti vi discorrendo al pomeriggio è tutta pratica vuol dire che siamo in dieci ci sono dieci camper benissimo si fanno dieci tagliandi e tutti ci si aiuta vuol dire che ci si divide diciamo in squadre di quattro cinque persone quattro cinque persone si posiziona il camper beppe ci dà una mano e si fa il tagliando camper per camper quindi l'idea è proprio prima lo imparo poi lo metto in pratica il vantaggio sempre che essendo in un'officina qual è il vantaggio che il ricambio stesso c'è il filtro dell'olio il filtro del gasolio è da beppe quindi sai non ci mettiamo molto è lì se arrivo con già l'idea cavolo imparo e me lo faccio il tagliando perfetto questa potrebbe essere ripeto un'idea ripeto ora stiamo parlando in questo caso nello specifico del corso di meccanica perché è una po la cosa più pratica tra rigolette ma ne abbiamo tantissimi altri inerenti magari alle sigillature inerenti magari alle parti degli impianti elettrici c'è una mosca adesso la mangio inerenti magari bravissimo si impara e si risparmia però l'idea Rudy è esattamente quella per poter venire più persone con la mia chiesa sette posti perché non vuole venire con il camp io la butto il grande marco perfetto anche perché secondo voi finiamo alle sei di sera non ci scappa due birre due salsicce siamo già lì cosa fai sembra bell'educato tappezzerie parleremo anche di tappezzerie vedi la penne che c'è subito quindi stiamo ripeto cercando di muoverci nell'ambito di diversi professionisti in modo da avere a disposizione le informazioni che non ci servono cioè noi in camper dobbiamo cambiarli molte volte magari i cuscini delle volte non si fa fatica a sapere qual è il tipo di stoffa la cucitura la densità della gomma piuma dove lo vado a comprare come funziona e tutte queste cose mi leggo luca che è un pippone incredibile allora aspetta alessandro come si potrebbe fare per chi sta scegliendo il camper si trova a sapere in parte le proprie esigenze ma sarebbe molto utile un confronto con chi come te è più esperto addirittura conosce il camper più in fronte di tramica è luca è complesso il primo camper non lo prenderai mai io ti chiedo solo se tu hai due minuti ma parte dal presupposto che ultimamente sto veramente facendo tanta fatica a stare dietro le mail se tu mi mandi una mail dal sito arcadio underotto punto it quella nel bene o nel male dovrei riuscire a leggerla però ti dico già c'è come faccio io io non conosci tu le tue esigenze figurati se le conosco io magari due chiacchiere due scambi di mail io spero ti possano aiutare però oltre quello non c'è tanto da da fare purtroppo c'è le tue esigenze le impari solo vivendo solo vivendo il camper o qualunque altro mezzo ricreazionale io non mi ricordo più cosa stavo dicendo ah sì che finiva birra e salsicce quindi ma fate anche corsi di accensione fuoco nel bosco io fabio viterei però ci potrebbe essere anche quello e ti assicuro che comunque sia accendere un fuoco non è poi così facile come potrebbe sembrare io quando leggo stefano delta kf turbo solo per delta kf turbo rispetto tanta roba ciao stefano e quindi l'idea ripeto è andare a sviluppare questa rete di corsi a seconda di quello che noi abbiamo più bisogno o più voglia di sapere d'accordo quindi magari nei prossimi mesi perché se tutto va bene dovremo riuscire a partire con questa cosa da gennaio cerchiamo di raccogliere un attimino le informazioni ne parliamo sul gruppo facebook ne parlerò magari su video dedicati in modo pian pianino da riuscire a fissare già le cose che potrebbero più interessarci magari rispetto ad altre faremo un calendario dove d'ipotesi chiaramente il corso io lo cerco sempre di fare di sabato perché sabato penso che purtroppo sia la giornata dove nel bene o nel male siamo tutti un pochino più liberi almeno se non altro nella maggior parte dei casi quindi si cerca sempre di fissarla per il sabato ed è sempre un corso che parte la mattina finisce la sera in modo che l'impegno comunque anche familiare sia un pelo più ridotto prenoto tagliando più decarbonizzazione e via così o ragazzi comunque la decarbonizzazione è veramente tanta roba io anche claudio di sms radio di mercoledì che l'ha fatta impressionante bravo paolo infatti fai un post facebook valutare le materie confermo quello che stavo esattamente dicendo prima bravo fabio bravo paolo scusami e fra l'altro non mai aggiornato come stanno andando avanti i lavori ma poi ci sentiamo e l'idea è proprio discutere tutte insieme e andiamo a ragionare su quello che io avevo già in mente o comunque magari professionisti che ho già trovato cose che sono riuscito a già trovare o altro e invece magari vi vengono in mente anche a voi a mi accendo la sigla vi vengono in mente anche a voi altre cose che magari io do per scontato per esempio do una cretinata perché non fare un corso che lo facciamo una volta sola magari è fatto bene ad esempio sull'installazione dei pannelli solari c'è una cretinata però dice io non ho capito come cacchio si monta bene partiamo da zero cioè tu devi montare il pannello solare sul tuo camper benissimo chiaro in quel giorno del corso ne monti uno massimo due di impianti non è che stiamo lì tutto il giorno però alla mattina facciamo il teoria alla pomeriggia si prende un camper test si porta dentro e fisicamente tutti lavoriamo perché il mestiere si ruba con gli occhi è vero però a un certo punto tu ci devi mettere le mani quindi se io te l'ho spiegato per due ore però poi te lo faccio vedere è molto meglio perché comunque ti rimane di più quindi la sezione dei cavi come cablare gli mc4 entrare dal passacavo scegliere il regolatore portare a batteria metterli il dimensionale il fusibile va 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 tutte queste cose cioè magari facendolo dal vivo tutti insieme chiaro ragazzi c'è non posso pensare di fare un corso ci sono 50 persone cerco di stare limitato perché altrimenti veramente diventa che non ci capiamo più niente cioè se no diventerebbe veramente il dentro tutti basta che pagate il biglietto no per me è se lo dobbiamo fare deve essere per noi utile ok altrimenti non funziona quindi io penso che il massimo sia una ventina di persone non di più se anche 15 forse pure meglio cioè il famoso pochi parliamo bene e abbiamo più tempo per farci le domande nell'arco dell'anno ripeteremo diverse cose ad esempio lo so il corso di meccanica lo fai quattro volte per darti un'idea no cioè in quattro periodi diversi in modo che magari uno non è riuscito a venire la prima volta riesce a venire la seconda per installare il secondo pannello metto a disposizione il mio camper anche se ci sta anche il relai di priorità via Enrico tanto lo dovevamo ci dovevamo guardare quindi vedi a quel punto lì perché no andiamo a sistemare l'impianto poi famoso discorso avete visto la zanzara passare in live quella zanzara c'è una cipessa qua dentro delle bestie che non te lo spiegano nel codice fiscale e comunque famoso discorso cerchiamo che se vuoi mi offro come ospite per materie legali ottimo francesco questa è un ottimo interessante tra l'altro sappiate che sto programmando che ne avrei parlato fra cinque minuti ma ormai e ve lo anticipo sto programmando delle live molto belle molto interessanti che ci potrebbero piacere guarda è apparso camper tabor detto don tiz che apparso subito corso di sigillatura ma quando facciamo il corso di sigillatura sappi che vieni tu e fai vedere cosa vuol dire avere del disagio nel tirare le se c'è guardi giù savoiardo io a un certo punto mi sono allontanato un attimo perché avevo paura cioè se le coccolava tutte che era una roba meravigliosa io come sapete sono un po più blando quindi va bene tutto ok però tutto questo discorso c'è i tipi di materiali i tipi di sigillante il tipo di impermeabilizzazione e la differenza tra alluminio vetro resina e cosa succede quando c'è il buco nella vetro resina come poterlo riparare lo spessore dei travetti di che tipo c'è tutte queste cose qui se ci fa piacere semplicemente ce le facciamo quindi niente di più niente di meno spero di avere esaurito un attimo il discorso corsi quindi l'idea di creare questa l'accademia del viaggiatore niente di più niente di meno che comprende tante cose nascerà ufficialmente c'è nel senso è già nata ma diventerà operativa i primi di i primi di gennaio il tempo che anch'io riesco a incastrare tutto e l'importante che riusciamo a fare le cose che ci piacciono molto prendere parte a questa bella iniziativa purtroppo mi trovo troppo lontano ok beh dai saluti dal molise sì io ho bellissimi ricordi di termoli una città bellissima fra l'altro però dai si fa per una giornata ritorno ho fatto di peggio quindi non dico niente ora andavo avanti leggermente che vi parlavo un attimino anche del dei nuovi accademi con vero a colpa va bene dei nuovi tre rigolette programmi diciamo insomma cosa sto cercando di riuscire a portare nel canale a livello di live streaming stiamo cercando di fissare degli appuntamenti quindi come avete visto il giovedì scorso che ha apparso nino che è ancora se ne parla perché ragazzi una live del genere è qualcosa di meraviglioso quindi cercare di dare un volto a una faccia c'è molti di noi che anche qui gente che scrive spessissimo vedo perché appena scritto ornitologia fabio fabio serra fabio ledda alerimor che alerimor ho avuto il piacerissimo di conoscerlo di persona fantastico fra l'altro quindi avere l'opportunità di conoscerci nella rubrica fatti camper tuoi abbiamo avuto nino e avremo poi tante altre persone di cui a venire fra l'altro i prossimi sono fabrizio silvia che è una coppia fantastica dei ragazzi che erano con noi a parma e ci tengo veramente che li conosciate perché è veramente fantastici lui fra l'altro una persona molto molto brava una gran manualità anche lui quindi molto molto bello e l'idea invece è trattare quindi nell'arco diciamo delle nostre live avremo questa rubrica dove semplicemente ci andiamo adesso io mosca ti sparo la volta buona scusate e guarda insiste proprio senza alcun dai arcademia ci sta dupassi ma anche alerimor lo stesso alerimor ragazzi è un meccanico che con dei mezzi anche lui è pilota ex pilota quindi stessa passione dei motori mi ha fatto una chiacchierata quando quella famosa sera con l'ominide peloso di armando che ci siamo sentiti oggi ancora sperso in mezzo a sofia sta aspettando il passaporto e una piacevolissima serata quindi anche alessandro stesso avrebbe tantissime cose da raccontarvi il piacere anche di fare queste cose nelle live invece un pochino più dedicate sul tecnico sto cercando di riuscire ad approfondire argomenti che a noi interessano molto esempio sono spero adesso lo devo sentire proprio a brevissimo una persona che fra l'altro è anche un amico un amico insomma un nostro amico diciamo che è chiaramente un tutore dell'ordine quindi essendo una una forza di pubblica sicurezza volevo fare una live dedicata all'importanza della diciamo dell'attuazione del codice della strada inerente ai nostri veicoli cioè a cosa bisogna porre assolutamente la mosca non ce la facciamo più fermi tutti giuda scusa niente c'è immortale fai come vuoi va bene l'idea era chiaramente andare ad analizzare molto bene l'articolo 78 del codice della strada c'è le cose che a noi creano potenzialmente maggiori problematiche e magari neanche ce ne eravamo accorti guarda stefanone o dove sei sparito che un po che non ti vedo grande stefano le cose che a noi ci ci danno un pochino più magari problematiche semplicemente anche per pura ignoranza ok semplicemente per pura ignoranza delle volte anche per pura ignoranza non sappiamo che il nostro sedile anteriore non aveva la piastra girevole non è omologata posso essere passibile di sequestro del libretto con le gomme di una dimensione diversa con determinati tipo di modifiche ad esempio uno pensa ma sì metto i fari a led che vado meglio sì ok non sono omologati in caso di controllo rischi grosso perché comunque articolo 78 prevede il ritiro della carta di circolazione e correggetemi se sbaglio 470 euro di multa comunque tanto roba casini ora risolta covid compreso vacca boia stefano anche te ho una cura si chiama salsiccia accompagnata con del vino poi 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 ne parliamo poi ne parliamo no l'importante che stai bene poi poi magari ci sentiamo e le sospensioni ad aria anche confermo fabio perché le sospensioni ad aria come molti pensano credo che siano accessori assolutamente no le sospensioni ad aria sono un organo che viene aggiunto alle sospensioni esistenti quindi c'è una modifica della parte delle sospensioni e devo assolutamente riportare al libretto quindi ci sono tante piccole cose tanti piccoli aspetti di cui noi neanche magari ne siamo a conoscenza e secondo me 480 scontata se la paghi 30 centi grande marco ecco non mi ero sbagliato di tanto ci sono magari piccoli argomenti che a noi farebbero veramente comodo perché comunque l'ignoranza purtroppo in italia è alta ma attenzione non perché noi siamo ignoranti perché la legislazione italiana è qualcosa di agghiacciante il codice della se tu parli non sto scherzando è provate fate una prova voi mandate 10 mail con la stessa domanda che ne so io posso agganciare il carrello con questo peso a questa c'è una domanda tecnica e la mandate a 10 motorizzazioni civili riceverete 10 risposte diverse c'è la cosa devastante quella lì ci sono quindi è qui che come fai tu devi essere tra rigolette più preparato ok devi sempre andare a vedere tantissime cose io ho fatto l'impianto a nos su cricchetto ma ti dirò secondo me va bene tanto è blu la bomba la semacola del gas non c'è mica problema tanto il pulsantino dietro 50 cavalli sul nostro aspirato fa sempre comodo dai se gli scrivi sopra alugas o non lo so aluga nel senso una marca dalla bombola del gas magari te la cavi ecco la scritta nos magari non la prendono comunque sì e l'idea è anche sviluppare come vi dicevo quindi queste live con questi argomenti un pochino più tecnici delicati che però ci interessano sto cercando di organizzare una live anche con un gommista la volevo fare l'anno scorso poi non c'è stato modo ma semplicemente ad esempio per far vedere se riesco a farlo da lui sarebbe massimo per far vedere ad esempio i danni del pneumatico pneumatico vecchio che magari stacca al battistrada un pneumatico che sfonda le tele c'è cosa può capitare il perché è importante determinati tipi di controlli cioè è inutile tenermi in campo per una gomma che ha 15 anni cioè ormai dell'era di flinstone va tutto bene finché non succede niente il problema è questo qua quindi nel bene o nel male vi ho detto un pochino i gli ultimi nuovi programmi volevo sentire anche da voi tra virgolette se avete anche idee se vi piacciono questi tipi di programmi se li vogliamo sviluppare meglio a noi cambiano regole da ragione a ragione confermo se sanno le leggi che non hanno infatti è vero ma il problema aspetta io tutte le volte che ti vedo ti chiamo alessandro invece francesco perfetto che ce l'ho fatta ora francesco il problema grosso è che c'è tanta ora io dico il termine ignoranza ma non voglio che sia negativa ignoranza proprio nel senso di ignorare ci sono degli anche delle volte trovi purtroppo persone che non sono a conoscenza ecco chiamiamola così di aggiornamenti o delibere o circolari particolari uscite da poco ci sono nel mondo anche delle modifiche auto chiamiamole così sarebbe da discuterne per una sera intera d'accordo cioè ci sono stati anni in cui c'erano delle lotte sfrenate dove qualunque cosa che per loro era una modifica c'era il sequestro del libretto mentre invece pian piano sono dovuti intervenire i giudici di pace ad esempio la barra duomi una cretinata la barra duomi anteriore per collegare e rigidire i duomi che è sempre stata vista addirittura pensa come prolungamento del telaio quindi assolutamente da omologare adesso c'è voluta una circolare per dire che la barra duomi essendo un pezzo rimovibile non è non ha bisogno di omologazione ma così come le sospensioni c'è anche lì le sospensioni è una cosa detta non detta non si capisce mai niente l'articolo 234 del codice della strada pensate che cita che di fatto qualunque modifica all'organo sospensione della vettura prevede il collaudo e la rimologazione del veicolo ma hanno anche fatto poi una circolare che ti dice se tu abbassi abbassi o alzi l'auto la cosa bella è questa ragazzi veramente non sto scherzando entro certi limiti non serve l'aggiornamento della carta circolazione ora quali sono entro certi limiti perché non scrivi una misura quindi in automatico entri certi limiti omologatevi discorrendo tu che cosa fai il ragazzino tra virgoletti che compra la nuova mito l'alfa mito e compra l'assettino dell'eyback meno 3 quello è un assetto omologato saremo entro certi limiti speriamo io stesso sto usando per la chia sorento il kit molle dell'hr quindi l'hr è una delle migliori marche al mondo di molle omologato per quel modello quindi è fisicamente proprio al numero di dicitura per quel modello di vettura capisci che c'è il famoso discorso non lo sai mai esatto chi li decide i certi limiti ma roba da matti bravissimo stefano e il problema è che tante volte ci sono normative una che da contro quell'altra ok cioè voi pensate ad esempio anche solo con nell'ambito delle radio cb chi è un radio amatore un appassionato allora abbiamo avuto anni in cui io che ero un radio amatore già vent'anni fa anche un po' di più di vent'anni fa con il mio mitico baracchino il mio alan 28 a casa tu all'inizio mandavi quando c'era ancora l'ufficio poste telecomunicazioni mandavi la richiesta di iniziati ti rispondevano ogni anno pagavi il bollettino e tutto il resto poi sono arrivati a liberalizzare la richiesta bastava che pagassi il bollo di 12 euro una roba del jail poi fisicamente un imposta del bollettino di 12 euro adesso hanno completamente liberalizzato il cb quindi tu te lo compri te lo monti in macchina e sei a posto così quindi per dirti quanto le cose variano nell'arco degli anni cioè ci sono purtroppo degli operatori del settore anche della stessa motorizzazione che dici non lo so cioè tu gli fai una domanda e loro ti dicono non lo so veramente perché ma perché non lo sanno davvero perché veramente una roba da chiodi il bello delle leggi in italia che le fanno apposta interpretabili ma sai che sai che ho avuto un attimino la stessa idea che abbiano tolto anche il bollo si confermo fabio adesso proprio il cb è completamente libero per non parlare di chi fa il collaudo in alcune regioni ho visto passare certe robe ma guarda marco allora fondamentalmente c'è anche da dire una cosa al centro collaudo loro hanno almeno io poi se c'è qualcuno magari che fa questo lavoro mi conferma però parlando con un collaudatore di un centro molto grande mi diceva guarda che in realtà noi dalla motorizzazione abbiamo delle bosca abbiamo delle direttive cioè io devo controllare questo 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 e questo d'accordo se questo 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 e questo è a posto per me la macchina a posto però ci sono delle cose mi ricordo cos'è stato tempo fa chi è che se lo ricorda avevano fatto un articolo su strisciare notizia che che secondo loro c'era un centro revisioni che diciamo era un po' furbetto e avevano staccato la barra stabilizzatrice ok ora secondo te quando vai a fare il tagliando te vai a fare il collaudo vedi quello della che ti collaudo al mezzo che si sdrai sotto al mezzo a vedere se hai staccato la barra stabilizzatrice adesso mi sembra un po' eccessivo quella mi sembrava proprio una roba che la volevi andare a cercare però ci sta così frenamo ma ci ricordiamo della famosa tassa autoradio confermo bravo ale se è stata abolita negli anni ottanta tu se avevi l'autoradio in macchina spendevi all'epoca 40 50 mila lire di bollo perché avevi l'autoradio in macchina se non mi ricordo male vado 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 a memoria credo negli anni ottanta metà degli anni ottanta l'avevano tolta per dato un'idea che sì effettivamente c'erano veramente delle cose assurde l'idea quindi insomma diciamo che è questo lo sviluppo che si dovrebbe andare a creare nei prossimi mesi ditemi anche voi cosa oh chi si è riavuto dottore come stai in viaggio con calcifer è riapparso cosa ne pensate di queste iniziative un attimino soprattutto a me quella che preme più di tutti era il discorso del del raduno evento perché diciamo che è bello fare gli eventi insieme anche guardo ultimamente chi è stato a parma capisce che l'aria che si respira lì dentro ok proprio si sta bene però lo dobbiamo riuscire a fare bene senza dare fastidio a nessuno e soprattutto essendo perfettamente in regola questa cosa non era più fattibile per quello che erano le mie sole forze non è non è più gestibile abbiamo però chi ci dà una mano ad organizzare queste cose perché è il loro lavoro e la cosa importante è che per noi addirittura sarà un costo anche meno perché parliamo veramente di da quel da quanto capito 5 6 euro a camper c'è proprio una roba veramente veramente spettacolare ale ma un corso sulle tue sigarette che durano un'ora e mezza di live marco la cosa bella è questa qua è allora io la devo ancora fumare un'ora e mezza di live ho dato un tiro quando praticamente ho detto you are live due tiri adesso si è già spenta ci riprovo a riaccenderla ma non non c'è verso fra l'altro una cosa che ho imparato io non lo sapevo giustamente tu hai fatto notare questa cosa che si spengono e che durano un'ora e mezza io l'ho imparato non da tanto che adesso i produttori di tabacco aspetta che c'ho l'arma letale grazie i produttori di tabacco hanno inserito sempre ripeto magari qualcuno ne sa più di me delle sostanze per cui se tu non tiri ok dopo poco dopo neanche mezzo minuto la sigaretta si spegne da sola non so se non credo sia per un discorso di risparmio sicuramente sarà qualche normativa ma corso di riabilitazione per camperisti a stemine fate fabio a te non ci vuole un corso di riabilitazione ti vuole un miracolo perché tra te e la cosca dei nani malefici lì penso che siamo nell'irrecuperabile o pagare sulla goal il superbollo fra l'altro adesso è stato fermi è stato reintrodotto il superbollo mi pare sopra i 250 cavalli se non vado errato ma allora si proprio no se vabbè sono mongolo io però niente c'è però la sto prendendo di punta scusate la mosca proprio fabio sei veramente terribile auto radio alimentata dalla batteria della macchina pagava si è alimentata da pila e non pagava grande roberto ci guarda ste chicche capisci ste chicche paolo zichi grande paolo mi mancava la paglia della energy star si spegne per non creare incendi grazie grazie tabor niente io niente andrò a letto con la il patema di sta mosca che non la sopporto più neanche io 242 cavalli grazie grazie rocchi infatti mi ricordo che avevano reintrodotto perché avevano abolito non ho reintrodotto questo superbollo sta ricoprando tutte le parole che non hai potuto pronunciare giovedì scorso no allora io giovedì scorso la cosa bella è che ho trovato quindi è tutta una persona ma se ne sono accorti tutti nino lo sai benissimo che parla più di me e soprattutto io ero estasiato letteralmente estasiato alle se ti porto la delta mi fai un tagliando tra un camper e l'altro guarda io se mi porti la delta poi la tua non so se è la 16 turbo o la 2008 16 valvole io penso che tu vien tu lasciala qua faccio come i meccanici me la lasci pure te lasciala qua non ti preoccupare ti stacco la corda del contachilometri così sono più tranquillo poi la divini a prendere con calma dopo un po' se uccidi la mosca in live ti segnalo il video come cruento io ti ringrazio però se vuoi vieni qui tu fra l'altro però si deve essere presa paura perché non la vedo più io tento di riaccendere la sigaretta sai che in realtà cesare che hai detto una cosa interessante un furgone all'estero puoi camperizzarlo in italiano sni sni anche lì ci sono paesi paesi ci sono comunque delle regolamentazioni cose che puoi fare cose non puoi fare se prendiamo ad esempio la germania per darti un'idea in germania c'è il tuv e il tuv inerente ad esempio c'è è cambia la testa in italia l'importante che qualcuno si sia preso la responsabilità senti questa è di dire che quella cosa va bene così ok quindi in italia se deve essere omologato dal tecnico della motorizzazione ci deve essere il nulla osta della casa madre la perizia del tecnico quindi loro certificano semplicemente che c'è un tecnico che ha detto che va bene con il tuv loro semplicemente vanno a guardare come è stato fatto non chi lo ha fatto hai capito la differenza quindi là a quando vai alle verifiche del tuv c'è proprio l'ingegnere che arriva controlla verifica cosa tu hai fatto e come lo hai fatto e se secondo lui tu hai fatto una cagata te torni a casa ti dice cosa devi sistemare e poi dopo ci ritorni però ci sono leggi e leggi in ogni paese noi in italia ragazzi abbiamo una burocrazia che è qualcosa di di pazzesco capito il si sente l'odore non è una siga guarda verrebbe verrebbe da urlare mo magari ma purtroppo col fatto della live perché nella mia testa faccio la cartina un pochino più lunga ho detto magari mi dura di più ma tanto neanche la fumo infatti vedi dov'è mi fa piacere allora vengo a trovare guarda stefano la delta è in assoluto la la macchina io io ti ammazzo primo di poi se cioè fermi e fermi 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 scusa è morta benissimo è una di quelle macchine che proprio mi mi fa andare giù di testa è qualcosa quel tra quella e l'ascore cosworth sono ricordi di infanzia brutti camperizzazione removibile la fai e nessuno dice nulla confermo altrimenti ingegnere che dice relazione confermo alle quello che poi diciamo fa fabrizio di freerode vi riscorrendo proprio per questo il progetto mio del 4x4 si basa tutto su un cassone autoalimentato completamente removibile proprio per evitare qualunque tipo di problematiche sto cercando di far vedere che anche non sgarrando dalle leggi che ci sono al momento in vigore perché al momento domattina possono cambiare tu puoi comunque camperizzare il tuo veicolo a norma di legge e stare bene divertirti mi sono informati in germania è utile fare una documentazione con foto eccetera selezionare dei lavori bravissimo paolo esatto confermo il discorso del del tub anche l'uso di attrezzi elettrici qua marco non lo so non mi sono perso forse qualche discorso scusate ok ma sai anche lì ho letto alla faccia di tutti i decreti semplificazioni che hanno fatti vari governi il problema è che esistono questi decreti il problema che in italia non sono ancora attuati ci sono tantissime normative te ne potrei citare delle decine che già in tutta europa sono in vigore e dovrebbero essere in vigore anche da noi ma di fatto non lo sono adesso secondo te posso fare uno studio live dentro un porter perché no hanno fatto una regia una regia mobile radio dentro un camper non vedo perché dentro il porter non può fare uno studio live c'è uno studio allora qui dietro di me tenete conto che guardate la differenza io qui sono a petto sto già toccando il muro ok quindi in realtà dopo è il gioco di prospettiva di altre cose che ti può fare la differenza ma il posto che ti serve anche da dentro un furgone se ti sistemi bene con le tue cose puoi fare un studio live bellissimo anche non è che ci siano di chissà che tipo di bisogno di spazio lo il vecchio studio live se lo ricordate era molto più grande avevo molto più spazio dietro però altronde o la live o il laboratorio uno dei due quindi sono finito nello sgabuzzino che è comunque tanta roba io mi piace da mattina il mio altro vengo in macchina torno in treno sì ma poi ma ma il biglietto che ti serve per tornare quello che poi ti servirebbe per riprenderla mai più avanti dai non è un problema in un video di armando aspetta che ho perso un pezzo il capo dell'officina di roveretto spiega cosa serve per trasformare che è comunque quella roba lì comunque sì sì il capo officina che è fabrizio di freerode che spiegava infatti tutte le documentazioni cosa cosa poteva servire o no allo seguito il suggerimento per la prova frizione cioè mollare piano il pedale con il freno tirato il camper si è spento ma si è accesa la spia motore for transit 25 del 90 se non è che si è accesa la spia motore si è accesa la spia immagino dell'alternatore che è l'unica spia che si potrebbe accendere quello ti serve semplicemente per capire quanto c'è ancora di frizione se invece di spegnersi avrebbe cominciato a slittare vuol dire che la frizione ne la faceva più avevo un'ideuzza per andare a intervistare direttamente gli allevatori lì da loro e farmi un mezzo dove anche buttarmi c'è a dormire se possibile ecco perché il furgoncino ma ora c'è anche un discorso il piaggio porter che lo conosco è fantastico per questi tipi di cose è fantastico se non ci avete niente da fare fate una cosa bellissima non è facile la ricerca ma andatevi a vedere le camperizzazioni che fanno in giappone cioè ragazzi allora il piaggio porter da loro è già il mezzo medio ok quello grosso ce ne sono anche di più piccoli fanno delle camperizzazioni ma con le pareti esterne tutte a legno no c'è delle cose da chiodi con quelle cose sembra Renato Pozzetto allora tac la scrivania tac tutto tutto incastro no però io non piaggio porter io non ci starei ma perché sono un susanelle infinito tu francesco non so fisicamente quanto sei grande ma tanto sono nano perfetto quindi potresti avere comunque ad esempio una panca ribalta cioè che fa così va contro la parete del del porter quando ci devi dormire va a ribalta quando è su hai tutto il porter per la lunga metti lo studio delle live tanto c'è quando hai un inverterino da 600 watt per tirarti il computer e una schedina audio con la webcam attaccata non è che tu abbia bisogno di chissà che consumi energetici ecco c'è una live di un'ora non è che di consumi impossibile quindi c'è tutto è fattibile un attimino ti metti gli studi ma tutto è fattibile ok non ho capito niente non lo so omologato uso abitazione si può camperizzare devi tenere in considerazione la posizione dei pesi spero che sono stato caro no fabrizio non ho capito niente su un furgone se un furgone è omologato uso abitazione poi allora aspetta già dopo ti divido questa cosa si può camperizzare devi tenere in considerazione la posizione dei pesi spero che sia stato chiaro no non sia stato chiaro ma credo di aver intuito cosa tu mi stai dicendo allora il tanto ci sono stati anni in cui si sono nate delle omologazioni assurde ok c'era il il camper omologato proprio uso camper poi c'erano avevano fatto delle omologazioni assurde tipo proprio uso abitativo uso abitativo di fatto era una casa c'è lì tu ci potevi prendere residenza delle cose veramente particolari il discorso è che se un mezzo è già omologato camper prevede che sia stata fatta una camperizzazione quella camperizzazione viene al momento diciamo dell'omologazione viene depositata in motorizzazione tecnicamente lo spazio i pesi robe del genere tu puoi andare a modificarla cambiare però io ti sconsiglio sempre di stravolgere le cose c'è un minimo di direzione di pesi tu devi sapere un attimo stai facendo se tu cominci a spostare tutti i pesi sul lato destro no tutti i passeggeri di qua al serbatoio dell'acqua di là al bagno di qua tutto di là praticamente il camper che gira così cioè quindi diciamo che fondamentalmente i costruttori queste cose un attimino ci hanno guardato quindi andate a modificare la vostra pianta interna ok nessuno vi dice niente da un letto normale ne create una castello ne tolgo uno ci faccio una dinette non sono 20 chili che mi spostano 35 quintali di mezzo d'accordo però un attimino insomma guardate quello che state facendo sarebbe bello camperizzare un gimni con la tenda sul tetto beh ce ne sono ivan ce ne sono tantissimi di camperizzati di gimni fra l'altro il gimni è un mezzo atomico letteralmente fantastico e anche col suo motore originale il mille tre benzina è veramente qualcosa di fantastico è molto piccolino è veramente molto piccolino quindi è chiaro che è d'obbligo una tenda da tetto il problema che se conosci il gimni tende a essere un po stretto e lo cominci ad alzare ci metti anche la tenda sul tetto vuol dire che l'angolo che può reggere prima di ribaltarsi su un fianco comincia a diminuire quindi ci sono sempre dei pro e dei contro però tutti i mezzi si possono camperizzare c'è ragazzi c'è la gente che fa il giro del mondo con una panda 4x4 2.990 quindi puoi fare quello che vuoi fondamentalmente l'importante è farlo con cinque minuti di testa accesa tutto lì bene ragazzi io direi che nel bene o nel male spero di avervi aggiornato sulle nuove iniziative diciamo che stanno nascendo e alle quali stiamo lavorando nei prossimi giorni cercheremo prossimi giorni settimane cercheremo sempre sul gruppo arcadio on the road magari di cominciare a portare avanti questi tipi di argomenti cerchiamo già di selezionare un attimino i corsi le cose che ci possono piacere gli argomenti delle live io cerco di dirvelo prima o aggiornarvelo un pochino di più come già vi anticipo infatti che giovedì prossimo parliamo con gabriele proprio dei nuovi supercondensatori questo è un argomento veramente interessante perché diciamo ci spiega una tecnologia veramente bella ve lo dico già per me è inarrivabile cioè nel senso che è qualcosa che costa comunque ancora per assurdo se lo spalmo nel tempo costa meno però è un investimento iniziale molto elevato per prestazioni assurde però secondo me a livello informativo è sempre bello conoscere e sapere le cose spero di avere anche risposto più o meno alle 6.000 domande che ho su per giù visto non ho capito ma va bene io sto camperizzando un espas grande prima serie che mi è stato regalato un mezzo distrutto grande fra l'altro guarda tu hai sempre qua giampi di lisa isa che anche loro hanno un espasso una delle ultime serie che loro fra l'altro è fantastico ed è un mezzo che si presta benissimo alle camperizzazioni fra l'altro se non so che modello ai tu di espasma la prima serie quello con il 2002 benzina se non vado errato parliamo degli anni 90 è il primo la prima serie c'era anche il modello se non mi ricordo male che aveva la dinetto centrale ora vado memoria ma era già un mezzo molto avanti per l'epoca era veramente tanta roba ok grazie ragazzi grazie a tutti della della partecipazione vi tengo un attimino aggiornati io provo di finire quella sigaretta che ho acceso tipo un'ora fa la mia carnegan non la vuole nessuno marco tiente la stretto che la chia carnival se poi hai quella con il motore 29 crd è un mulo consuma come una fogna ma è veramente un bel mezzo e si presta anche molto bene a tante camperizzazioni quella a voglia ne ho viste tantissime ragazzi cosa dire buonanotte spero alla per la prossima